E cari amici, cari amiche o meglio, cari papà e care mamme, ben ritrovate sempre qui da Emporio 88 a Catanzaro Lido che ha riservato per i vostri figli da 0 a 16 anni delle offerte veramente impertibili. Potrete infatti acquistare i capi a partire da soli 4 euro, avete capito bene, soli 4 euro per arrivare a un massimo di 14 euro. E tra l'altro disponibile anche la collezione autunnale che potrete acquistare con sconti fino al 40%. Per cui quale migliore occasione di rifare il guardaroba ai tuoi figli grazie a Emporio 88 a Catanzaro Lido. Ti aspettiamo!